L'hai letta la filastrocchia che ho fatto insieme alla IA? Alla IA? No, non l'ho letta. Non l'hai letta ancora? No. Vabbè. Ah, vabbè. Leggi la filastrocchia e ce ne andiamo, è solo l'ultima cosa. Aspetta, fammi mettere gli occhiali allora. Leggo la filastrocchia che ha creato insieme insieme all'aiuto di una componente elettronica questa famosissima IA Aspetta che la devo trovare perché allora vado nel gruppo no, forse ce l'ho nelle immagini salvate e vi leggo la filastrocchia che il buon admin di Telegram mi ha dedicato e ha dedicato a tutto il gruppo con i soldi di Youtube non riesco neanche a comprarmi un telefonino decente prima che apri le foto qua, mamma mia che brutta fine che fanno lì Youtube eccola qua allora ci siete? Vado maestro C'è uno stagno del Natale dove dimenticata la pigrizia Frog legge e mangia un pranzo di delizia sotto il cielo stellato guantoni alla mano Frog sfida rane e rospi guardatelo il soprano il camper diventa magico splende con ardore porta Frog a casa dove batte il cuore vuole in viaggio unico il cielo rilegato un fumetto cosmico appena ristampato ma quanto ne sa? sei un poeta potento che stai io ho detto ma come cazzo fa? e lui poi dice no ma c'è l'intelligenza io ho dato alcuni punti lui ha precisato però una cosa cosa hai precisato Roberto? che di tuo c'era però il cuore portante no ma il mio c'è il cielo rilegato un fumetto appena ristampato un il cielo rilegato il fumetto cosmico appena ristampato lo sai anche lui che c'è no ma è mio si tieni conto che i grandi artisti i grandi artisti come quando compongono sono sempre sotto effetti di allucinogeni io non avevo dubbi su Roberto sulla sua arte poetica sull'artista ovvio è bellissimo ragazzi ciao ragazzi ci sentiamo ci sentiamo l'anno nuovo? 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 un fumetto cosmico appena ristampato ma è vabbè ma è no ma è che è Fabrizio di Andrea no è profondo è profondo Fabrizio di Andrea ma l'affanculo ciao ragazzi il prossimo anno non lo fermiamo più perché adesso entra qualcun'altro la deve ripetere capito? la live dura 4 ore lo so già dai siamo ristati dentro un'ora e quasi in mezzo vabbè dai ciao ciao un ultimo pat pat albun ci vediamo al prossimo anno ragazzi ciao è stato un grandissimo piacere ciao ragazzi ciao ciao ben rivisti ciao